Siamo nell'ufficio di Insieme si vince, oggi sono venuti a trovarci due amici Lucia e Michele insieme al nostro vice coordinatore Nicolas. Cos'è Equibay? È un'idea di piattaforma online per lo scambio di prodotti come appunto può essere Ebay in cui una persona può mettere in scambio un prodotto che ha in eccedenza però invece di incassare dalla vendita del prodotto decidere di dare in beneficenza alle organizzazioni di volontariato, alle organizzazioni non profit il ricavato dell'oggetto. Come possiamo aiutarvi? Per realizzare quest'idea abbiamo deciso di candidare il progetto su un sito che si chiama labuonavernice.it. Questo sito sostiene economicamente alcune idee. le migliori idee devono ricevere più voti attraverso Facebook o attraverso il sito. E chiediamo il vostro voto perché c'è un'idea socialmente utile e rilevante imolese e vorremmo riuscire a realizzarla. Nicolas che dici? L'aiutiamo? Io direi che vanno aiutati quindi votiamo tutti e vi spiegheremo le istruzioni sulle nostre pagine. Aiutiamo questi ragazzi, non ci costa niente ma facciamo del bene veramente con un piccolissimo sforzo. Grazie, vi salutiamo e a presto.